Siamo al De Amicis, il tuo nome? Gerani Nico Nico Gerani, che tema hai svolto? Allora, io ho svolto il tema socio-economico che parlava della crisi economica sui giovani e niente, ho parlato, ho fatto una breve introduzione sulla crisi economica odierna che ci colpisce, che ci sta colpendo tuttora e dopo mi sono concentrato su come mai i giovani non riescono a trovare lavoro e vengono così facilmente licenziati chiudendo il tema appunto con un pensiero di Steve Jobs che nonostante tutto incita i giovani a non demordere a continuare sempre per la loro strada e per i loro pensieri e di non lasciarsi condizionare soprattutto agli altri cosa che comunque però non è semplice portare avanti e sì, ci vuole anche quel pizzico di fortuna Ascolta, ti preoccupa qualche altra prova? Sì, diciamo che per la seconda prova, che è quella di economia aziendale sono un po' agitato, anche se come materia mi piace quindi speriamo bene sono molto più preoccupato per la terza prova le quattro materie in tre ore spaventano e poi sono sorpresa e sono sorpresa, esatto, sì beh, in bocca al lupo Crepi Grazie